Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, oggi episodio 1 dei centrocampisti, ti direi di non perderci in chiacchi e direi di iniziare subito dal primo centrocampista di questo video. Vlasic, ovviamente un centrocampista atipico anche perché viene considerato un centrocampista a tutti gli effetti a livello di fantagazzetta, ma non è un centrocampista nella realtà, bensì gioca esterno dietro la prima punta. Quindi ovviamente è uno di quei giocatori che quando si può, si deve provare a prendere a tutti i costi al fantacalcio per via della sua posizione, che non è di un centrocampista vero, ma ovviamente è di un esterno, quindi può portare ovviamente molti molti più bonus e molti più gol. Centrocampista che non ha passato la stagione, ha fatto, devo dire, bene ma non benissimo, devo essere sincero, io l'ho preso ad esempio al mio vecchio fantacalcio dell'anno scorso, devo dire avevo un po' più di aspettative, ma non ha fatto comunque totalmente male. Secondo me al secondo anno in Serie A, magari inserito meglio sempre all'interno dello stesso contesto di gioco, di Juric appunto nel Torino, potrebbe secondo me regalare qualche gol e qualche assist in più, soprattutto rispetto alla passata stagione. Secondo giocatore che vi va da consigliare all'interno di questo video è, come nel caso sempre di Vlasic, un giocatore che viene considerato un centrocampista, ma in realtà non lo è. Strefezza del Lecce, anche qui giocatore che nella passata stagione ha fatto addirittura, se non mi sbaglio, una decina di gol, anche perché è il rigorista del Lecce. E, come nel caso di Vlasic, è un giocatore che non gioca a centrocampo, ma bensì gioca a esterno d'attacco, quindi un esterno letteralmente offensivo. Altro giocatore che vi va da consigliare, oltretutto il Lecce quest'anno ha perso un po' di elementi cardini, quindi io penso che faranno ancora più affidamento su quei giocatori che hanno più esperienza. E, senza estrefezza, il giocatore probabilmente in questo momento copia esperienza del Lecce. Oltretutto, devo dire, il Lecce è anche un ottimo gioco offensivo, ovviamente non vi farà migliaia di gol, però secondo me può tranquillamente rifare i 10 gol della passata stagione, ripeto, considerando il fatto che abbatte i rigori, quindi comunque è un bonus notevole. Terzo centrocampista di questo video, ormai vi faccio uno dopo l'altro, giocatori che vengono considerati centrocampisti, ma non lo sono, Zaccagni della Lazio. Probabilmente il miglior centrocampista, anzi, è il miglior centrocampista a livello di Fantagazzetta, comunque viene considerato il più costoso, ovviamente perché? Perché è un giocatore che gioca in attacco e l'anno scorso ha fatto doppia cifra, se non mi sbaglio, di gol, e forse di assist, no, non mi ricordo, ma comunque viene da una stagione ottima, Zaccagni, uno dei migliori giocatori della Lazio, della passata stagione, che ricordo è arrivata a seconda, e uno dei migliori giocatori. Anche qui hanno perso Milinkovic, hanno cambiato un po' di giocatori, ma non vedo giocatori che possono anche elevare il posto a Zaccagni. Anche i nuovi acquisti che sono arrivati, Kamada, centrocampo, Isaksen, dovrebbe giocare almeno sulla destra, quindi probabilmente Filipe Anderson andrà a perdere un po' di titolarità, ma io penso che Zaccagni invece sarà l'uomo cardine, uno dei migliori giocatori che avrà la sua disposizione, secondo me è un giocatore affidabile, ha l'età giusta per riconfermarsi, non è troppo vecchio, non è troppo giovane, dovrebbe avere 26-27 anni, comunque un'età dove il giocatore è affidabile, secondo me tranquillamente può rifare la doppia cifra. Secondo me si fa bene a pagarlo tanto, anche perché, ripeto, un centrocampista che ti porta quei bonus, quei gol, secondo me in Serie A non ce n'è, quindi secondo me lui è il top davvero che si può andare a prendere quest'anno sul mercato, dopo che tanti giocatori forti si sono persi e sono andati in altre squadre, secondo me Zaccagni è uno dei migliori. Quarto giocatore di questo video, centrocampista dell'Atalanta, rigorista anche lui, almeno salvo grandi cambiamenti da un anno all'altro, con tutti i nuovi acquisti che sono stati fatti, paro ripeto, dall'Atalanta, parlo di Club Maners, giocatore che è in procinto di poter anche eventualmente lasciare l'Atalanta, si parlava di Napoli, ma dubito che poi alla fine, ormai manca veramente poco alla fine del mercato, due settimane, difficile imbastire le trattative così tanto importanti, oppretutto il Napoli molto vicino a Gabriele, giocatore spagnolo, quindi penso che andrà a sostituire con lui la partenza di Zielinski, che è un di quei giocatori che avrei voluto inserire intorno di queste top, ma probabilmente non rimarrà in Serie A, quindi era inutile che vi portassi, Zielinski come nome, visto che probabilmente andrà anche lui in Arabia, quindi dicevo dei Club Maners, secondo me è un giocatore su cui puntare, e se non mi sbaglio insieme a Rabiot o addirittura è il centrocampista puro, con più gol in Serie A, mi sa che ne ha fatti 8 per esattezza, ovviamente tutto dovuto anche al fatto che batte i calci di rigore, e anche al fatto che si è sparato, se non mi sbaglio, due triplette quest'anno, quindi in realtà bisogna dire, sono stati un po' boostate le statistiche di Club Maners, perché su 8 gol, 6 sono stati fatti in due partite, con due triplette, tra l'altro la tripletta forse l'ha fatta anche all'ultima giornata di campionato, le ultime giornate di campionato aveva quel gol da centrocampo quasi molto bello, però devo dire, è un ottimo giocatore su cui puntarci, probabilmente potrebbe fare qualche gol in meno della passata stagione, questo potrebbe anche accadere, infatti secondo me non è il centrocampista su cui puntare tutto per tutto, era quello che vi ho appena citato, sui saccagni, però sicuramente Club Maners è un ottimo giocatore. Ultimo giocatore di questo video, questa volta cambiamo squadra e andiamo Sponda Milano-Inter, Parro di Barella, centrocampista che ovviamente non vi devo neanche stare a dire, gol, assist, probabilmente quest'anno porterà qualche bonus secondo me in meno, perché c'è molta più varietà nel centrocampo dell'Inter, è vero, bisogna capire che alla fine summer dicendo dall'Inter, ma penso che in questo momento l'Inter ha molte più varietà e probabilmente potrebbe anche far riposare di più Barella, che in realtà non è per forza un malus, perché potrebbe anche essere che Barella in questo modo possa essere più lucido durante l'arco della stagione e magari portare addirittura più bonus giocando anche meno tempo, però ovviamente la titolarità dell'Inter ragazzi non gliela leva nessuno a Barella, è comunque il punto fermo dell'Inter, lui c'ha la Noglu molto probabilmente, e poi ruoteranno Mkhitaryan, Fratesi, noi altri centrocampisti, Aslani, ma penso che Barella non lo leva nessuno da quella posizione, oltretutto secondo me Barella è un altro di quei centrocampisti che può fare ancora secondo me un passo in avanti a livello di gol e bonus che può portare, secondo me può tranquillamente in questa Serie A, io non è che la reputo chissà che campionato, secondo me può tranquillamente arrivare veramente a 10 gol, 10 assist da centrocampista, visto che comunque poi lui gioca in una posizione di campo abbastanza avanzata, e oltretutto l'Inter crea tantissime palle gol o comunque azioni, quindi secondo me può tranquillamente Barella arrivare in doppia cifra sia di gol che di asis, è molto difficile per un centrocampista ovviamente, però Barella lo conosciamo, sappiamo che è forte, quindi può riuscirci tranquillamente. Direi che per questo primo video dei centrocampisti può anche finire qui, fatemi sapere se nei commenti c'è qualche giocatore che volete vedere che non l'ho inserito, o che appunto cosa ne pensate dei centrocampisti che ho inserito in questo video, ci vediamo domani con anche il video dei difensori, e poi ripartire dal giro attaccanti, centrocampisti, difensori e episodio 2. Ovviamente d'ora in poi uscirà un video al giorno, anche perché periodo estivo è un po', non dico terminato, ma mi sono preso le mie belle vacanzine e sono terminate ormai, quindi mi sono presi i miei giorni di pausa, di iniziare e di continuare a fare un video al giorno, perlomeno un video, e niente, ci vediamo nel prossimo video e ciao ciao!